Fere che c'è? T'ho felice Steph! Perché Fere? Perché dobbiamo troppo... Dobbiamo provare tante armature bellissime! Quello è il mio tipo di intro, fare il rrrr della troppa enfasi No, il fatto è che Steph, lo volevo dire... E con copyright Steph Aspetta, lo volevo dire con una bella enfasi Il problema è che mi sono incartata una parola E dovevo rimediare e fare una battuta simpatica Perché sennò non avrò avuto senso Ma il rrrr nasce proprio dall'enfasi talmente alta che non ci puoi parlare E cosa dovevo fare di ricartata? Copyright Ok, allora Spiegami un pochettino cosa dobbiamo fare, dai Allora, qui in questa bellissima chest Tu Steph, oggi andrai a provare delle armature formidabili Che ti permetteranno di trasformarti nei bob Ad esempio, vedi l'armatura di zombie Tu sarai uno zombie a tutti gli effetti Con i suoi poteri E con i suoi lati negativi, Steph Ok Ma c'è proprio al 100% C'è brucio pure di giorno? Mi stai chiedendo L'ho già messa a Fere ma l'hai studiata abbastanza No, ho detto sono belle, proviamole Ah, tanto le provaste Io ho visto mob armor Ho detto basta, fermiamoci così È la cosa più bella del mondo Non pensi? Allora Allora, per prima cosa Voglio vedere se questa cosa è giusta Dovrebbe darti la night vision Sì Vedi di notte? Ok, perfetto E seconda cosa A parte che sono Hulk più che uno zombie Ah, vabbè, sono zombie un po' Sono toccissimo Ok, dimmi Sei più forte degli altri Sarei più bello tra gli altri zombie Seconda cosa Altra cosa Praticamente ti dovrebbe rendere Se non sbaglio Fammi leggere qui Tutta la guida, Steph Perché è molto complicata questa mod Ti dovrebbe rendere resistente Piove pure Al danno istantaneo Quindi penso un colpo Con una spada Che io qui ho prontamente preparato E al veleno Ok Hai anche del veleno? No Vediamo come lo possiamo procurare Va bene, Fere Va bene Io mentre voglio andare a provare una cosa Sono molto curioso Vado a puntare un villager E voglio vedere Se stendendo il villager Diventa A parte che l'ho visto correre tantissimo uno Ma non so se era all'effetto mio Ma non credo O se perché non si voleva bagnare con la pioggia Magari è per quello Sera appena fatto Salve Aspetta, leviamo, leviamo, leviamo Aspetta che rimetto anche il giorno Scusi, devo capire Se lei diventa uno zombie villager È un esperimento per la scienza Secondo me no È un esperimento Fere ha detto che ho tutti i poteri da zombie Quasi tutti, Steph Vieni qua Ok Vieni qua Arriva, cara Dove sei? Prendo danno così Sì, ok Eccomi Sono arrivato, Fere Allora, proviamo la prima cosa Pozione di veleno Ok Vado Sì Non mi hai fatto nulla Ok Danno istantaneo Mi hai fatto male Allora, cosa intende? Ridami un altro colpo Per danno istantaneo Non lo so Forse la pozione di instant damage Ah, forse Quella Sì Vabbè, Fere Non mi interessa Grazie No, 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 no Voglio dei mostri un po' più interessanti Dove l'accesso? L'ho persa È tipo qui da qualche... Qui sotto, Steph Ok, quale vuoi? È pieno di erbaccia Dimmi il prossimo step Perché mi devo leggere la descrizione L'enderman Ok, fammi cercare Ma non potevi studiare prima del video? Scusami Ho un'idea Delle caratteristiche che hanno questi mob È difficilissimo da ricordare tutto Allora Enderman In pratica ti l'ha anche lui la night vision E aumenta la tua vita di 20 Ma sei un enderman scordio Ma sono molto brutto Ma sei bruttissimo Allora Se tieni premuto shift Ma penso che sia control Perché tu c'hai il contrario Dovresti lanciare un ender pearl Che ti fa teletrasportare Esattamente come gli endermen E basta? Non ho altri poteri? Per adesso fai questo Steph E non rompere Porca miseria Io mi lamento quando provo le cose Funziona Ecco qua Allora Altra cosa L'unico L'unico altro potere che hai È che quando ti avvicini all'acqua Vieni teletrasportato Automaticamente lontano Perché a quanto pare Tu Steph Enderman Odi l'acqua Ok Vado a vedere Allora Qua c'è dell'acqua Vado proprio con stile Pronta? Vai Vediamo Buttati È vero Ma questo potrebbe essere Un minigioco bellissimo Bellissimo Riesci a toccare l'acqua? Bellissimo Ok E quindi l'endermen Questa era carina dai Questi poteri che gli ho aggiunto Secondo me erano molto carini Sì 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 Questo non era per niente male Meglio dello zombie di sicuro Adesso sto passando al golem Cara Ok golem Vado a cercare Quindi era un golem no? Esatto Oh mamma mia È lungo? L'ho scelto difficile Fere? Allora Praticamente Eh no vabbè Ti dico i primi due Se Però sei bellino Sei un po' storto Ma bellino a modo tuo Il golem è proprio carino Sono pieno di cuori È sempre un mini golem Sono pieno di cuori E quello lo vedo la sua Allora Se ti butti in acqua Dovresti riuscire a respirare Sono lentissimo Oh povero Guarda Eh sì Per Aspetta Ma la diceva sta roba No non me la diceva Guarda ci sono anche Contraindicazioni che non conosce Sì davvero orribile Eh non me le dice Ah sì Era tipo nel quarto Questa armatura Diminuirà del 70% La tua velocità Posso respirare sott'acqua Quindi confermo Avevi ragione Questo è giusto Perfetto Allora poi Se tu praticamente Mi dai un pugno Ok Ottieni O premi il mouse Due volte Proprio specifica Sta roba Praticamente Mi dovresti far volare via Ah ho capito Cosa intendi Proverò su una pecora No prova su di me No no Tu sei Ma io volevo volare Ah la pecora L'ho risultata con un colpo Ok Vado su di te Proviamo su una pecora Però è volata È morta Ma è volata Aspetta 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 Qualcosa di più resistente Steph Questa roba è bellissima Vediamo 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 Dai dammi qualcosa Di forte Uno zombie Non è molto forte Lo zombie Però può andar bene Tieni Wow Ok vai No questo è bellissimo Tieni Per ora raga No lo voglio rivedere Ti prego Per ora siamo tutti d'accordo Che il golem È il più bello Degli altri mostri Ok A parte che sono pieni di cuori Sono un po' lento E poi ultima cosa Steph C'è qualcosa altro ancora? È pienissima Ok È assolutamente assurda Praticamente tu non dovresti Prendere danno Da caduta O dal knockback Quindi se io adesso Ti lancio in aria Tu non dovresti prendere danno Prova a salire Su un posto e buttarti Sai quanto è difficile Con sto sorta di E comunque Se lo vuoi sapere Tu solo con un pugno Fai 14 danni 14 14 Not bad È fortissimo Pensa che La mia spada di iron Fa 6 di attacco Cioè pensa a quanto tu sei forte Vado? Vai Qua dovrei prendere danno io E non prendi danno Sì Perfetto Perfetto Benissima Non posso provare più di un tanto Perché questo coso è ancorato a terra Quindi posso fare di testo Fino a un certo punto Con questo Certo certo Ok me lo tolgo Così torno a correre Cosa vuoi provare? Non lo so Sono lontano dalla cesca Ok Scusami Cosa vuoi provare? Io sono lontano Pigman Ok Anche se immagino immunità al fuoco È poco altro di interessante Secondo me il pigman Zombie pigman Giusto? Sì Ok Resistenza al fuoco e net vision Ok Di nuovo instant damage e poison Ok Va questo non è troppo interessante Dice giusto che quando tu Arrivi ad essere Meno 10 di vita Qua mi specifica 10 Praticamente diventi più veloce E fai anche più danno Prova a picchiarmi Basta No Vai Ma non prendi danno Non so Sono molto forte Ma faremo? A farti diventare Non so perché sono così forte Aspetta Sì Guarda Ok È solo che poi Recupero Vai picchiami di nuovo Adesso non recupero più la vita Ora non recupero più la vita Vai L'ho capito Ma volevo questa Perché sennò non la finiamo più Stef Un altro colpo Un altro Guarda Bellissimo Per scappare proprio a gambe levate Bellissimo E questo è molto carino E questo è molto carino Ok questa finisce così Ok Perfetto Mi è piaciuta però Allora mangio Questo effetto qua di poter correre così veloce È molto bello Però vedi come facevo a ricordarmi le memorie Stef Beh era facile Io me lo sarei ricordato Allora il prossimo La spider è bella La spider è bella L'ho già letta Esatto Lo stavo per dire anche io Allora anche qui Sei pronto? Sei un ragno? No Non sei un ragno? No Diventa un ragno Stef Diventa un ragno Ma sono brutto come ragno Sono immune al veleno Immune al veleno ovviamente Ok Allora questa La cosa interessante è ovvia Cosa può fare un ragno Stef? Arrampicarsi Esatto Tu dovresti trovare un muro Vieni guarda Cioè questo qua ti dovresti arrampicare sopra Semplicemente avvicinandoti Guarda Fede Lo posso già fare anche in questi blocchi Io non salto Guarda Vedi? Sì vieni Adesso poi qua lo possiamo far vedere Però sì volevo farlo vedere In un posto più alto Pronta Ok Spider-Man Spider-Man Sono Spider-Man Questo è bellina Spider-Man Però sei bruttissimo Stef Lasciatelo dire Sei bruttissimo Sono Spider-Man Prova a darmi un colpo Guarda Te lo faccio vedere se è una pecorella Ok dovrebbe fare qualcosa Sì Salta in avanti come il ragno Guarda Vedi? Ok sì 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 Faccio questo mini saltello Non avevo ben capito per come era scritto Però ok Perfetto Guarda Riesco addirittura un po' a volare Se hai detto bene Bellissimo Bellissimo È molto carino Eh voli un sacco È bellina Finiti i poteri Vero? Cioè il ragno queste cose fa Non dovrebbe avere altro Ok ricordavo bene Allora Iniziamo a togliere questo E adesso mi sa che iniziamo ad arrivare Verso i mostri Un bel po' più cattivi Blaze Eh vabbè Che cattiveria Ecco Mamma mia Quanti ne ho Stef? Allora Ti dico già le prime cose Night vision Resistenza al fuoco E jump boost di tre Quindi salta? Aspetta Mancio Poi mi volevo vedere In ambito estetico Che bellino Carino Cioè sono un bel ragazzo Ho preso un po' troppo sole Si capisce Mi sono addormentato al mare Senza la protezione solare State attenti con solini Però Va bene Tenete premuto a control? Dovresti avere una specie di glide No scendita Allora shift Non sono specificati bene i tasti Dice che praticamente puoi Ma tu mi avevi detto jump boost Non che posso volare Così puoi volare Più o meno Eh Ok Ma posso lanciare anche le palle di fuoco? Non credo No No in pratica qui mi dice Che avevi il jump boost E che poi se ti butti da un'altezza Praticamente premendo shift Puoi planare Questo Quindi eh Non è proprio un volo Riesci a planare Ok Va bene Poi quante sono? Ah vabbè Poi mi aveva anche detto Che tenendo premuto spazio Tu potevi volare Proprio Era la terza Allora Premi C Steph Vai Questa è la parte più bella Dai non funziona Perché? Questa è la parte più bella Diceva lei Puoi leggere le fireball Ho visto Mi dice premi C Steph Contros Vediamo come sono bindate le cose con questa mod Dai Raga Ma perché? Prova tutti i tasti Le palle infocate Era il pezzo più importante Era il pezzo più importante Questo è perché lei non studia Non studia Press C To shoot Blaze Fireball Steph Che vuol dire secondo te? Vuoi provarla tu? No Prova altri tasti Premi tutto Premi tutto Ho premuto qualsiasi cosa esistente Non la voglio provare Io No Non c'è Prova a buttarti la cosa Ma è così Fere ma non è C Ma sei una persona orribile Guardate ho capito E lui ha detto C Steph Non l'ho fatta io la mod Scusami eh Aspetta Funziona più No ma lì di fuoco basta Comunque se ti butti nell'acqua Dovresti riprendere danno Altra cosa interessante È ovvia Ok Eh E niente Eh ma io sono molto deluso Eh La parte più bella erano le fireball Steph Sì prendo danno Volo Cavolo Volevo vedere le fireball Tu E io Che ti devo dire Pere Non quella delusione Pere Anzi no Dobbiamo capire che tasto è Tutte le altre hanno Quasi sempre questo C Steph Quindi È un po' Ma ho anche un knockback assurdo Io Vedi Non lo specificava Aia Sono finito in acqua per sbaglio Cavolo Ok sto bene Sto bene Sto bene Pere non scopre Qual è il tasto C Non me lo dice Steph Non me lo dice sta mod Che ti devo dire Io sono particolarmente deluso da lei Però non ci si può fare nulla No dobbiamo scoprirlo Perché tutte le altre Poi per attivare le cose Premono sempre C Quindi Allora Aspetta Un attimino Controls Secondo me io ho un tasto In C Già bindato Esatto Levalo quello Questo Leva Mettilo in un altro Perché non funziona nulla Ti metto fuoco Ti metto fuoco Allora Te la dico così Molto semplice Nella ceste raga Mancano Wither Skeleton Ghast Ender Dragon E Powered Creeper Li proviamo in un altro video Fede dovrà scoprire come cavolo funziona il C Perché altrimenti Qua non ti perdona niente e nessuno Io Non hai studiato a sufficienza Ti prendi una C Non ci provare Giusto perché qualcosa è stato divertente A fare le battutacce vai in acqua A morire Volo via E ci fermiamo così Qua sotto compriamo altri video Iscrivetevi Cliccate anche un campanellina Se non l'avete ancora fatto Insultate a fare perché Non funziona la C Non è vero Penso che non funzioni E basta Però Scopriremo se c'è un modo Di farla funzionare Perché sarebbe bello Posso anche mangiare mentre volo Quindi qua sotto il video Ci fermiamo così C'è un momento